Via Nazionale, monumenti storici imbrattati dai manifesti delle elezioni europee, via 24 maggio, idem, guardate che scempio, guardate che schifo, palazzi monumentali imbrattati da questi quattro ladroni, guardate che schifo, questa dovrebbe essere la via che porta alla casa del governo, al Quirinale, questa è via nazionale, palazzi monumentali ridotti allo schifo, guardate che schifo, guardate che schifezza e noi paghiamo.